Mare a est della Corea. La nave da battaglia Wisconsin, scottata dall'ingrociatore Manchester, rompe la furia delle onde per portarsi a bombardare le retrovie nemiche in questa guerra nella fase che si spera finale. Si tratta di una operazione combinata fra esercito, marina e aviazione. Così, finché le conversazioni di pace non raggiungeranno il loro obiettivo, la flotta tiene sotto controllo il nemico e distrugge le sue linee di rifornimento.